Cari amici vi do il benvenuto a questa tredicesima puntata della nostra rubrica dedicata all'approfondimento, alla conoscenza del documento di Papa Francesco intitolato Amoris Letizia sulle questioni del matrimonio e della famiglia. Dico questa è la tredicesima puntata quindi ci siamo occupati in maniera direi piuttosto approfondita delle varie tematiche, alcune delle quali anche di scottante attualità che Papa Francesco tratta in questo documento, in questa esortazione apostolica post-sinodale perché fa seguito di fatti a ben due sinodi che il Papa ha convocato sinodi dei Vescovi di tutto il mondo proprio per discutere il tema del matrimonio e della famiglia. In questa puntata cominceremo a vedere il penultimo capitolo del documento papale, l'ottavo capitolo, quello in qualche modo più enfatizzato dai media perché è il capitolo nel quale il Papa si occupa delle cosiddette fragilità, così le chiama. Notate come anche il linguaggio si è cambiato, in passato si parlava di situazioni matrimoniali irregolari e difficili, oggi il Papa in questo testo magisteriale parla di fragilità, già la terminologia come dire è diversa, un conto è definire situazioni irregolari, un conto è parlare di fragilità. Qualche altro autore parla di legami spezzati, in altre parole in questo ottavo capitolo si parla di tutte le situazioni di disagio in cui si trovano alcuni conigi, si parla dei divorziati, dei divorziati risposati, il Papa facendo anche alla situazione dei conviventi e quindi a quelle situazioni che interpellano anche la Chiesa in ordine all'accompagnamento pastorale. Anche il titolo dato dal Papa a questo ottavo capitolo è significativo perché il Papa usa tre verbi che poi di fatto scandiscono il contenuto di questo ottavo capitolo. I verbi sono accompagnare, discernere e integrare la fragilità. Si tratta quindi di accompagnare pastoralmente le situazioni più complesse, si tratta di fare un discernimento, come vedremo, delle diverse situazioni che possono venirsi a configurare e si tratta infine di integrare queste persone che sono per lo più battezzate e quindi fanno parte della Chiesa, di integrarle appunto nella vita della comunità ecclesiale. Questo ottavo capitolo era il più atteso dalla stampa, dall'opinione pubblica ed era talmente atteso che si può correre il rischio di ridurre tutta la moris letizia ai temi trattati in questo ottavo capitolo. Io questo lo definisco un rischio perché in realtà il documento di Papa Francesco è molto più ricco e tratta, come abbiamo potuto vedere nelle trasmissioni precedenti, praticamente quasi tutti i temi del matrimonio e della famiglia. Quindi sarebbe un impoverimento ridurre la moris letizia solo alla questione dei divorziati e dei divorziati risposati. Però, ciò non di meno, sicuramente questo ottavo capitolo è di fondamentale importanza. Il Papa ribadisce al numero 292 la verità sacramentale del matrimonio cristiano, direi quasi la bellezza del Vangelo del matrimonio, perché il Papa si pone su questa ottica, cioè non si tratta tanto di denunciare i mali che oggi attanagliano il matrimonio, ma si tratta di annunciare la bellezza del progetto di Dio sul matrimonio e quindi si tratta di annunciare con gioia il Vangelo del matrimonio. Francesco fa notare al numero 293 che molti giovani oggi non hanno fiducia nel matrimonio al punto che passano da una convivenza all'altra. Già nei precedenti capitoli Papa Francesco ha stigmatizzato questo individualismo oggi così diffuso, questa liquidità, per dirla con il sociologo Bauman, per la quale anche i rapporti affettivi spesso sono rapporti liquidi, non solidi, non stabili. Quindi, ecco, questo passare, dice il Papa, da una convivenza all'altra. E a volte, dice Francesco al numero 294, la scelta della convivenza o del matrimonio soltanto civile, e quindi non sacramentale, non canonico, non è motivata da resistenze nei confronti del sacramento, ma da situazioni culturali o contingenti che vanno accompagnate, dice Papa Francesco, in maniera costruttiva cercando di trasformarle in opportunità di cammino verso la pienezza del matrimonio alla luce del Vangelo. E qui chi si occupa di azione pastorale sa benissimo quanto sia vero quello che Papa Francesco dice qui. Io faccio il parroco, fra le altre cose, e vivo queste situazioni. Quando vengo a contatto con situazioni di questo genere, e cerco di capire perché quei due giovani non si sono sposati in chiesa, o si sono sposati soltanto col rito civile, o non sono sposati affatto e vivono nella forma della convivenza, vi assicuro che più volte mi è capitato di sentirmi rispondere che questa scelta è stata motivata dal mero fatto economico consumistico, cioè non abbiamo i soldi per fare la festa, o per poterci sposare adeguatamente in una maniera, come dire, sontuosa o anche solo più solenne. quindi non c'è un rifiuto del sacramento, ma c'è però una prevalenza, come dire, dell'aspetto consumistico della festa rispetto a quello che potrebbe essere invece l'esigenza di vivere in grazia di Dio. questo quindi in alcuni casi è vero, in altri casi è vero però che c'è una sorta di paura di tutto ciò che è definitivo, per cui la scelta della convivenza o del matrimonio solo civile appaiono come scelte ovviamente meno impegnative, come scelte che possono essere revocate, come scelte cioè che non impegnano i soggetti contraenti per tutta la vita e quindi da questo punto di vista diciamo che la convivenza o il matrimonio solo civile evidentemente sono meno impegnativi di un matrimonio sacramentale. Naturalmente il Papa ha ragione quando dice che queste situazioni vanno appunto accompagnate in maniera costruttiva e quindi vanno accompagnate in maniera tale che laddove questo sia possibile possano queste scelte chiaramente contrarie al Vangelo del matrimonio trasformarsi, dice Francesco, appunto in una opportunità di cammino verso la pienezza del matrimonio inteso come sacramento. Questo accompagnamento e qui è un punto fondamentale, dice il Papa va fatto tenendo presente la legge della gradualità e qui Papa Francesco recupera un concetto che era stato lucidamente espresso da Giovanni Paolo II nella Familiaris Consorzio, quindi nel 1981, in cui la legge della gradualità si definisce come una capacità di conoscere, amare e realizzare il bene secondo tappe di crescita. Questa è la legge della gradualità. Il soggetto morale conosce, ama e attua il bene non tutto in una volta, ma secondo tappe di crescita. Questa legge della gradualità però non è da intendere, e qui Papa Francesco lo chiarisce molto bene, come la gradualità della legge. Attenzione, legge della gradualità non significa gradualità della legge. Se noi parlassimo di gradualità della legge dovremmo argomentare che la legge morale e quindi anche la legge di Dio non è uguale per tutti. Per i più bravi è una legge più impegnativa, per i meno bravi è una legge meno impegnativa e questo non è accettabile naturalmente. La legge è uguale per tutti, già quella civile, ma figurarsi quella divina e quella morale anche. Quindi non parliamo di gradualità della legge, ma parliamo di legge della gradualità, cioè come dice il Papa, un esercizio prudenziale degli atti liberi in soggetti che non sono in condizione ancora di comprendere, di apprezzare o di praticare pienamente le esigenze oggettive della legge. Ripeto, c'è chi è in grado questo di farlo subito e c'è chi non lo comprende ancora o non riesce ancora a farlo, il che non significa che non voglia farlo. Magari lo sta cercando di fare secondo tappe di crescita. Quindi legge della gradualità è un criterio per così dire pedagogico, gradualità della legge è inaccettabile perché significherebbe appunto una legge morale per gradi che non è accettabile. Nell'ottica di questa premessa, al numero 297, Papa Francesco afferma che si tratta di integrare tutti. Notate anche questa affermazione così perentoria, se vogliamo. Si tratta di integrare tutti. Si deve trovare il modo di aiutare ciascuno a partecipare alla comunità ecclesiale perché ognuno si senta oggetto di una misericordia immeritata, incondizionata e gratuita. Questa è l'affermazione da cui bisogna partire. Tutti i soggetti coinvolti in quanto battezzati fanno parte della Chiesa, anche se si trovano in condizioni di convivenza, di matrimonio solo civile, di secondo matrimonio dopo il divorzio, ovviamente il divorzio è solo civile. Tutti devono conoscere una qualche forma di integrazione nella vita della Chiesa. E qui finalmente il Papa entra nell'oggetto di un tema scottante che è quello dei divorziati risposati, che sotto tanti aspetti è il tema più scottante. Perché il tema più scottante? Perché naturalmente i separati o i divorziati che non si sono risposati come dire non pongono particolari problemi dal punto di vista morale e neanche dal punto di vista dell'accesso ai sacramenti. Perché se una persona è separata o è solo divorziata ma non si è risposata, non è andata a convivere con nessun altro, questa persona può continuare tranquillamente a confessarsi, a farsi la comunione, a svolgere i ruoli come quello di padrino eccetera, perché a suo modo è una persona che continua a vivere la fedeltà al matrimonio contratto in Chiesa e quindi al matrimonio sacramentale. Meno problematica è anche la situazione sotto tanti aspetti dei conviventi o degli sposati solo civilmente perché in entrambi questi casi niente osta che questi soggetti possano decidere di sposarsi in Chiesa. Naturalmente questa decisione va ponderata, va accompagnata pastoralmente, però di fatto se due sono andati a convivere o si sono sposati solo con rito civile e sono battezzati nulla vieta loro di sposarsi anche in Chiesa. È chiaro che non si tratta di celebrare il matrimonio in Chiesa solo così in maniera formale, giusto per regolarizzare dal punto di vista ecclesiale una situazione appunto ritenuta irregolare, se questa è l'ottica è un'ottica sbagliata. Si tratta però di aiutare questi soggetti a giungere gradualmente verso la pienezza del matrimonio inteso come sacramento. La situazione più spinosa dal punto di vista morale e pastorale è però quella dei divorziati risposati, perché quella dei divorziati risposati per tantissimi versi è una situazione irreversibile, cioè non si può chiedere a un divorziato risposato di abbandonare il coniuge con cui ha contratto un nuovo matrimonio, un matrimonio ovviamente soltanto civile. E quindi è di questa situazione più problematica, più spinosa, più difficile che il Papa Francesco si occupa al numero 298. E in questo numero 298 il Papa dice che è necessario tenere conto delle diverse situazioni in cui gli sposi possono venirsi a trovare quando sono appunto divorziati e risposati. E qui il Papa elenca, sempre in questo numero 298, ben quattro diverse situazioni ma probabilmente ce ne possono essere anche altre. La prima è che alcuni, dice Francesco, vivono una seconda unione consolidata nel tempo con nuovi figli, comprovata fedeltà, dedizione generosa, impegno cristiano, consapevolezza della irregolarità della propria situazione e grande difficoltà a tornare indietro senza sentire in coscienza che si cadrebbe in nuove colpe. E questo comporta il fatto che non si può chiedere a queste persone di tornare indietro. Altri hanno fatto grandi sforzi per salvare il primo matrimonio e hanno subito un ingiusto abbandono. Anche questa è una situazione diversa rispetto a chi ha causato invece la separazione e il divorzio. Altri hanno contratto una seconda unione in vista dell'educazione dei figli e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio non era mai stato valido e infine non mancano quelli che hanno intrapresso la nuova unione subito dopo un recente divorzio o dopo avere ripetutamente mancato ai propri doveri familiari. Sono situazioni tutte diverse l'una dall'altra. La più grave è l'ultima perché se uno ha abbandonato il proprio conige, ripetutamente è venuto meno ai propri doveri familiari, si è andato a risposare con un'altra persona. Ma questo qui è un soggetto che ovviamente ha delle responsabilità morali enormi. Diversa è la situazione di chi è stato invece abbandonato e poi magari ha consolidato una nuova unione impegnandosi in maniera fattiva in questa nuova unione, in maniera anche costruttiva, spesso anche in maniera più cristiana rispetto alla prima unione che formalmente era valida, ma nella sostanza no. Per cui questo discernimento va fatto. Siccome il tempo a mia disposizione per il momento è scaduto, io mi fermo qui, lo so che vi lascio un po' in sospeso, ma spero che questo possa farvi venire il desiderio di ascoltare la prossima puntata nella quale cercheremo di capire qual è la risposta che la Chiesa può dare in queste situazioni. Intanto vi saluto. Grazie. Grazie.